buongiorno eccoci il consueto aggiornamento ciclico stimolare di solito il martedì ho avuto dei problemi ieri e lo faccio oggi prima vi ricordo che anche alle 17.30 se andate sul mio sito c'è un video live gratuito per ufinance sull'analisi ciclica andate cliccate e vi potete iscrivere sp500 vedete l'indicatore di ciclo rosso qui rosso rosso e probabilmente dopo due mesi e mezzo ormai potrebbe essere iniziata una fase di indebolimento iniziata io mi aspetto che eventualmente possa essere maggiore la prossima settimana con i dividendi ma non che si faccia discesa forte questa settimana non me lo aspetto magari della prossima settimana fa un paio di settimane di mediamente debolezza un paio non vuol dire che scende per due settimane di fila un zizzagare però ricordiamoci che il minimo quello che qui segnato del 13 è molto importante quindi 40.000 e 4.030 è un minimo molto importante perché sotto quello mi sancisce che il ciclo si è messo nella fase di debolezza sto parlando del ciclo quale io le cose che le dico le dico sulla base del mio software seacos navigator che mi aiuta molto di più tra l'altro oggi parlerò di analisi ciclica farò vedere varie cose come io analizzo e opero sui cicli detto questo mi aspetto quindi mi aspetto che sotto il minimo del 13 maggio sancisce che il ciclo si mette in debolezza e quindi ha un po di tempo per scendere per il momento però non l'ho ancora fatto segnalo comunque che cosa succede sotto questo minimo del 13 fa dei massimi di minimi decrescenti quindi correzione gli indicatori ciclici sono già tutti in una fase di mediamente di debolezza debolezza non conclamata però debolezza c'è perza di momento ciclo settimanale è iniziato il 13 ha fatto due giorni sostanzialmente tre a rialzo 13 mattina adesso sta correggendo onestamente io penso che trovi un minimo nel primo pomeriggio poi fa un giorno di rimbalzo poi magari due giorni di debolezza però ecco per le mie strutture cicliche e lo vedrò anche sugli altri non mi aspetto che continui a scendere non sarebbe il momento trovo un minimo nel pomeriggio un giorno di rimbalzo poi magari due leggermente di debolezza per chiudere il ciclo settimanale che dura circa tra i 6 e gli 8 giorni il nasdaq è messo molto peggio ma non abbiamo tempo di vederlo passiamo ora al al future eurostox eccoci sul future eurostox anche qui rosso 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 sembra che il doppio massimo potrebbe essere forse la fine della fase rialzista per questo ciclo vediamo comunque qui è molto più lontano il minimo dell'11 sotto 3840 3850 3840 anche qui se ci sarà di un po di debolezza bello aspetto più della prossima settimana per diciamo fino all'inizio giugno come faccio queste affermazioni sulla base del secolo navigator ecco sempre quello ora ciclo settimanale qui sta correggendo meno però sta correggendo uguale s&p per me trova minimo entro il pomeriggio poi fa un giorno di rimbalzo poi due giorni leggermente debolezza vedremo poi per chi vuole avere informazioni più precise va sul mio sito si scrive a due settimane di prova di tutto quello che scrivo tutti i giorni tutti i giorni scrivo di analisi e tre di enciclico è molto alto per esempio poco fa ho pubblicato adesso lo aggiungo in tempo reale ho pubblicato un'analisi quantitativa sul stagionalità sul fuzzimi per i miei abbonati comunque ecco l'euro stocks più o meno come l'S&P ma non ha la e meno ha una maggior forza se vogliamo cioè qui perché si rimette in debolezza ci vuole altro l'S&P invece sembra già vicino in una situazione di debolezza passiamo ora al future dax eccoci sul future dax non c'è molto molta differenza rispetto agli altri tranne che qui non è solo da poco che l'indicatore di ciclo trimestrale è un po rosso ma vedete anche sui loro stocks è poco rosso l'indicatore di ciclo cioè è solo un inizio in debolemento che diventa conclamato sotto il minimo 13 mila 14 mila otto e arrotondiamo 14 mila otto che è un doppio minimo tra l'altro del 13 giugno per il momento ripeto per me oggi può anche trovare un minimo rimbalza un giorno poi due giorni più o meno lì si chiude venerdì dividendo la prossima settimana e da lì magari inizia un po indebolimento ma niente di che non mi aspetto niente di trascendentale però il ciclo deve andare a chiudere perché è un ciclo iniziato è iniziato a fine febbraio inizio marzo per il per l'S&P 500 in America in genere quindi stiamo andando verso i tre mesi siamo già a due mesi e mezzo dell'inizio oltre e quindi se questo ciclo dura mediamente due mesi dovrebbe è più probabile che vada verso una sua fase debole poi sono cicli che si allungano a tre mesi e mezzo quattro quindi magari invece lateralizza e poi la debolezza ce l'ha a metà giugno oltre e questo non lo posso sapere prima io cerco di vedere se le cose vanno verso la media non se si allontanano dalla media questo non lo puoi sapere per definizione proprio di media statistica passiamo ora al fib eccoci sul fib che ha fatto una puntata a 25 mila oltre 25 mila per il fuzzimib faranno i massimi non c'è molto tempo per farli questo non vuol dire che non li possa fare se faranno i massimi e allora il ciclo si allunga ecco questo sono il modo cioè se succede qualcosa allora c'è una conseguenza sui cicli se succede un'altra c'è una conseguenza dei cicli però anche qui siamo ben lontani dal minimo del 13 che è 23 mila 7 anche se se l'euro stocks va sotto i suoi minimi qui anche se non ci va per me basta l'euro stocks e poi quello italiano andrà di conseguenza però vedete anche l'indicatore del ciclo trimestrale solo da adesso ha cambiato colore è troppo poco per poter dire che c'è un cambiamento importante in atto assolutamente quindi vediamo la struttura ciclica è così ciclo settimanale anche qui è iniziato il 13 per me ripeto può trovare un minimo oggi pomeriggio questo ciclo minimo centrale per intenderci ve lo faccio vedere sul circuit navigator eccolo qua trovo un minimo centrale anzi eccolo qui ve lo faccio vedere sul fuzzimib qua ecco questo qui più giusto trovo un minimo centrale eccolo qui o l'ha già trovato o lo trova a breve o l'ha già trovato e poi fa un giorno di rimbalzo almeno questa è la mia idea di struttura ciclica che potrebbe essere per i principali indici con una maggior forza comunque una maggiore forza o un principio indebolimento ben inferiore in europa rispetto agli stati uniti passiamo all'euro dollaro ecco l'euro dollaro ottima forza qui il ciclo iniziato a fine marzo quindi può rimanere forte fin inizio giugno quindi c'è tempo potrebbe anche puntare ai massimi cioè 1 23 4 circa potrebbe ci sarebbe tutto il tempo cioè almeno due settimane qui per chi mi segue insomma io sono long a tempi buoni per il momento lo tengo non c'è motivo di cambiare posizione il ciclo settimanale anche qui preso il 13 il 13 è stato un giorno importante maggio sono quattro giorni che sale sostanzialmente potrebbe anche qui leggermente debolirsi oggi trovo un minimo centrale e poi qui mi aspetto invece che possa fare già da domani puntare a noi massimi sto parlando del ciclo settimanale qui mi aspetto anche qui trovo un minimo perché i tempi alle volte sono simili all'S&P ma con forze differenti l'S&P mi aspetto che trovo un minimo centrale entra oggi pomeriggio anche qui leggera correzione dell'euro dollaro trovo minimo centrale leggero recupero dell'S&P recupero maggiore con probabilmente nuovi massimi per l'euro dollaro e questo più o meno sono le strutture comunque qui vedete la maggioranza è blu degli indicatori euro quindi più spinta passiamo ora al bond ecco il bond cui ciclo iniziato a fine marzo lasciate perdere questo buco questo è dovuto sul cambio di contratto quindi se guardate qua in alto a destra è più corretto è però è indebolimento qui ormai conclamato qui magari non c'è ancora tanto per scendere vorrei potrebbe essere al massimo la prossima settimana però c'è ancora tempo quindi la discesa per me può continuare almeno fino alla fine della prossima settimana o comunque quando inizieranno a correggere magari gli indici azionari questo potrebbe fermarsi non è che sono sempre opposti assolutamente non è vero che sono opposti sono sfasati i cicli questo sì anche se stavolta non sarebbero proprio sfasati perché fine febbraio è iniziato il ciclo in Europa indici azionari e fine anche febbraio per il boom ma hanno andamenti comunque differenti forte in Europa debole sul boom io mi aspetto ancora debolezza c'è tempo per andare sotto 168 anche 167 poi si vedrà ciclo invece settimanale partito anche qua il 13 registrano importante qui probabilmente già trovato forse il minimo centrale forse sottolineo forse potrebbe avere oggi un po di un imbalzo e poi e poi mi aspetto magari oggi l'imbalzo domani è lateralità e poi uno o due giorni di debolezza per andare a chiudere il ciclo però mediamente questo è debole c'entra a fare altri cicli superiori come con maniera conclamata l'indicatore ciclivo debole solo ecco se si andasse sotto questo massimo 169 e 35 allora lì le cose potrebbero un po cambiare per il boom ma deve andarci sopra sempre con la chiusura di giornata importante chiudiamo come al solito con il bitcoin bitcoin grande difficoltà come tempi ci sta la debolezza assolutamente non mi attendevo dei minimi inferiore a quelli di partenza che erano intorno a 43 mila chi ha queste capacità bene bravo io credo che per una volta che ha ragione 3 ha torto non è possibile individuare prima delle forze di questo tipo perché ci sono degli eventi esogeni che le hanno spinte però i tempi si stanno esorrendo cioè un aspetto vedete va tutto rosso per un aspetto che possa trovare un minimo conclusivo anche qui pochi giorni quattro giorni giusto per 3 4 entra 3 4 giorni diciamo entro domenica io mi aspetto che trovi un minimo conclusivo potrebbe essere anche una lateralità cioè che sta lì poco sopra 40 mila poco sotto trova un minimo conclusivo dire che livelli vabbè lasciamo ai maghi perché qui si chiede i tempi e i prezzi come tempi un'idea ce l'ho come prezzi è molto più difficile però non tanto sotto questo non mi aspetto però 36 35 potrebbe anche arrivarci trova un minimo e poi abbiamo recupero con che forza adesso difficile definirlo però anche qui il ciclo sta si sta andando per concludere tra l'altro vedete che è diviso in tre parti 1 2 e 3 quindi potrebbe concludersi per me entra domenica è un'ipotesi ovviamente di lavoro ciclo settimanale è iniziato anche qui il 13 13 giorni importante per tanti vedete è iniziato qui più correttamente è in essere da 1 2 3 4 5 6 giorni sono sei giorni qui c'è anche il servito domenica ma aspetto che possa avere ancora tre massimo 4 giorni mediamente deboli non necessariamente tutti i giorni che si scenda zizzagare un po più verso il passo poi finisce questo ciclo finiscono i cicli superiori e si riparte con un po più di recupero e quindi si può tornare verso 50 mila vedremo comunque di volta a volta intanto vi aspetto comunque al video live per you find us oggi 19 maggio 17 30 iscrivetevi perché parlerò proprio di come faccio le analisi cicliche che vedete in questi video e molto altro andate e iscrivetevi numerosi e noi ci vediamo comunque come al solito al prossimo appuntamento martedì e con i vari eventi in cui sono presente buona giornata a tutti